Siamo nel pre-gara Potenza Picena-Lorese, finale play-off girone B di promozione, le voci dei presidenti. Dopo la vittoria in Coppa Italia un altro appuntamento di prestigio che vale un'intera stagione? È una bella soddisfazione trovarsi in questa posizione di classifica e cercare di fare questo sprecio. Presidente, un appuntamento importantissimo con il vantaggio di giocare sul vostro terreno? Beh, sicuramente è un grande vantaggio, però queste partite come sappiamo tutti conta un po' tutto poco, conta la grande determinazione, la voglia di vincere e poi anche il doppio risultato dice poco tutto, la motivazione la farà da padrona. Scendono in campo le seguenti formazioni. Lorese, Natalucci, Lucaroni, Tarquini, Casoni, Menchi, Fermani, Ulissi, Fusari, Capenti, Caradori e Morresi. In panchina Carnevali, Paolucci, Silenzi, Mocchi, Pallotta, Pandolfi e Mazzocchetti. Mister Matteo Ruffini. Potenza Picena. Natali, Monaco, Deja, Sulce, Marzola, Biondi, Mariani, Egrizietta, Pepi, Croceri e Santoni. In panchina Sollini, Tartabini, Rosati, Riganelli, Canuti, Savoretti e Latini. Il mister è ovviamente Giuseppe Santoni. La partita è arbitrata dal signor Mattia Biagini di Pesaro, che è coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Procentese di Pesaro e dall'assistente Mirko Enrico di Ancona. Calcio d'inizio per il Potenza Picena. Quinto minuto, corner per la formazione locale, cross di Croceri, Groviglio in area e zampata vincente di Monaco. Potenza Picena in vantaggio. Nella prima occasione il Potenza Picena trova il gol grazie alla zampata di Monaco. Sesto minuto, esce Capitano Lissi per infortunio ed entra Emanuele Pandolfi nelle file della Lorese. Tredicesimo, Capenti dalla tre quarti, pallone per Jacopo Caradori che calcia debolmente. Ventiseiesimo, cross di Tarquini e Capenti che calcia in porta e bravo Natali a bloccare. Termina qui il primo tempo sul risultato di Potenza Picena uno, Lorese zero. Secondo tempo, calcio d'inizio che batte la Lorese. Sessantaseiesimo, Tarquini per Carradori che calcia debolmente e permette a Natali di parare il pallone. Ottantaquattresimo, Croceri dalla tre quarti vede Natalucci leggermente fuori dai pali e calcia però sopra la traversa. Novantesimo, Mazzocchetti in area di rigore appoggia debolmente e sfera che termina sul fondo. Triplice fischio, Potenza Picena che batte la Lorese per una rete a zero grazie al gol di Monaco al quinto minuto. La squadra di Giuseppe Santoni approda alla finale regionale dove incontrerà la vincente fra Olimpia Marzocca e Camerano. Adesso andiamo a sentire le voci dei due allenatori. Giuseppe Santoni, una vittoria importantissima. Avete trovato il gol subito grazie alla zampata di Monaco. Poi avete fatto una partita di cuore. Avete buttato i ragazzi il cuore oltre l'ostacolo come si sol dire. Partita di contenimento a contenere questa Lorese che ha cercato di giocare per cercare di pareggiare. Però l'avete contenuta bene e un gol che vi proietta per la finalissima regionale. Sì, è vero. Noi sapevamo che sarebbe venuta fuori questa partita. Sapevamo che forse avremmo dovuto tenere per 120 minuti in questo modo. Quindi eravamo pronti, eravamo preparati. Sapevamo che la Lorese dopo la San Giustese era la squadra più forte del girone. Quindi ci siamo messi lì. Io avevo detto ai ragazzi che dovevamo scendere sotto il gradino dell'umiltà. Ancora più umili di essere umili. Loro l'hanno fatto, hanno lottato su ogni pallone. Grazie a una bella giocata in Monaco abbiamo trovato il gol subito che ci ha permesso più che altro di sbloccarci alla tensione. Vabbè, è vero. Abbiamo fatto una partita di cuore, di sacrificio. Però una squadra che è partita per salvarsi con un'età media anche oggi di 23 anni. Sotto ai 23 anni penso che non gli si poteva chiedere di più. Quindi seppur non siamo stati bellissimi, non siamo stati brillantissimi. Però abbiamo dimostrato di lottare uniti e ormai di cercare il possibile per fare bene. Ancora bene. Allora mister, il gol è subito all'inizio, ha un po' scompossolato le cose. Partita votata all'attacco, primo tempo, secondo tempo. Forse è mancata un po' di incisività in avanti, complice anche l'infortunio di Ulissi. Sì, sapevamo che dovevamo fare una partita perfetta contro una squadra che era da 6-7 partite che non prendeva gol, fermo restando che avevano l'assenza dei Monteneri. Non l'abbiamo fatta perfetta, nel senso che abbiamo preso gol subito. Quindi quello sicuramente ha condizionato, ha dato morale a loro e magari ne ha tolto un po' a noi. Direi che poi la partita l'abbiamo fatta, non ricordo di rimborda del Potenza Picena. Noi abbiamo avuto quelle 4-5 situazioni in cui però non si è riusciti a far gol. Sapevamo che non sarebbe stato facile fare gol, è chiaro che avendolo subito poi le difficoltà sono aumentate e purtroppo è finita così.